In questi giorni Luminar AI ha ricevuto da Skylum un nuovo aggiornamento. Si chiama Luminar AI Update 3 ed aggiunge nuove funzionalità. Vediamo di che cosa si tratta. Iniziamo subito con le brutte notizie. Questo Update 3 di Luminar AI non ha il tanto atteso effetto bokeh. È previsto per l'estate e opinione personale verrà rilasciato al ritorno dalle vacanze. Nonostante questo, l'Update 3 di Luminar AI, che formalmente è la versione 1.3 del software, porta comunque delle nuove funzioni. Sono funzioni, se vuoi, un pochino marginali rispetto a quella che poteva essere l'attesa, ma ci sono anche tanti miglioramenti. L'altro aggiornamento attesissimo, il supporto ad Apple M1, invece è arrivato proprio con questo Update 3. Si tratta ovviamente del supporto per laptop e desktop di casa Apple. Io non ho potuto provare la versione per M1 perché non ho ancora una di queste macchine, ma sembra che sia un supporto nativo ben realizzato. È chiaro che se vuoi utilizzarlo come plug-in per altri software, devi utilizzare software in versione nativa M1, ovvero non puoi utilizzare un software che gira con rosetta e plug-in che sono invece scritti per M1, ma questo è in generale per l'architettura di Apple. Sempre in casa Apple è arrivato il supporto al formato H, Live per le immagini, ovvero il nuovo formato delle immagini che è usato da iPhone, ma anche ormai da svariati altri apparecchi. Ecco, questo supporto è arrivato anche nella versione Windows di Luminar AI. C'è poi l'inevitabile miglioramento delle prestazioni ed effettivamente il lancio dell'applicazione è davvero più veloce di prima, ma la novità cui tengo di più, che non è di certo la più importante, ma è quella che mi ha in qualche modo coinvolto personalmente, è il miglioramento della traduzione italiana. Gian Mario, uno degli iscritti al canale, ha fatto un lavoro enorme nel cercare di migliorare questa traduzione. Io ho semplicemente fatto da tramite e rifinito alcune cose, ma finalmente abbiamo una interfaccia un pochino più comprensibile. Non tutto quello che abbiamo proposto è stato già integrato, ma per esempio il pannello chiaro è diventato finalmente luce. E dunque si capisce che cosa fa. Se vai nel super contrasto, che prima era un assoluto delirio, è diventato un oggetto comprensibile, e tante di questi miglioramenti li troverai qua e là per l'interfaccia. Per noi che utilizziamo la versione italiana, credo sia un'ottima notizia, e ripeto, dobbiamo ringraziare Gian Mario, che ha fatto davvero un grandissimo lavoro. Altra novità interessante per gli utenti Windows è la possibilità ora di utilizzare la nulla anche all'interno del cancella e del timbro clone, che prima invece se sbagliavi qualcosa dovevi praticamente cominciare da capo. C'è stato un miglioramento importante anche per quanto riguarda i modelli. Le novità sono principalmente due. La prima è questa, che ora direttamente da qui puoi accedere al Marketplace, perché ti propone dei modelli che già non hai comprato e che sono presenti nel Marketplace. Io farei particolare attenzione ad utilizzare questa funzione e a comprare modelli a destra e a manca, perché probabilmente prima conviene provare quelli che già hai acquistato. E a proposito di modelli acquistati, ora nel momento in cui schiacci appunto il puzzante dei modelli acquistati, li puoi vedere come tutti gli altri. Basta cliccarci sopra e vediamo la loro icona, la loro descrizione e prima o poi verranno anche proposti all'interno dei modelli per questa foto. Quelli che stai vedendo sono i miei modelli per ritratto, ho realizzato svariati modelli per Luminar AI, li trovi linkati nella descrizione qui sotto, puoi scaricarli dal VideoZappo Fan Club, che è la nuova community cui puoi iscriverti a uno dei piani a pagamento per avere contenuti esclusivi, questi piani iniziano a meno di un euro al mese, puoi accedere a tanti corsi, molti dei quali gratuiti e c'è anche un programma di affiliazione che ti permette di guadagnare diffondendo questa mia nuova iniziativa. Ma prima di vedere le novità più importanti di Luminar AI, metti un bel like a questo video, iscriviti al canale utilizzando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Dai anche un'occhiata al mio negozio su Amazon con tanti articoli tutti commentati e che ho provato personalmente. Puoi acquistare tranquillo evitando delusioni, a te non costa neanche un centesimo in più e darei una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando. La novità più importante che ha introdotto Skyloom riguarda, come al solito, il cielo. Ti mostro quello che è cambiato, andiamo a prendere un cielo per questa immagine. Possiamo prendere uno dei miei cieli. Anche questi puoi scaricarli dal link che trovi nella descrizione qui sotto. Già così a prima acchitto noterai che fa un lavoro decisamente migliore specialmente per quello che riguarda il riflesso. è migliorato il riconoscimento e la mappatura nello spazio 3D per cui il riflesso ha una qualità complessivamente migliore e delle rilograzioni specifiche. Te le mostro tra un istante. La prima cosa che è cambiata è questa ovvero il posizionamento dell'orizzonte. Se Luminar non dovesse aver correttamente identificato la linea dell'orizzonte che vedi nel nostro caso sarebbe questa puoi spostarlo e per esempio vedi nel nostro caso magari abbassarlo un capello e in questo modo migliorerà appunto il posizionamento nello spazio 3D del cielo. Se la foto fosse storta puoi sempre ruotare il cielo ma non è il nostro caso e questa opzione era già presente in precedenza. Una volta sistemata la linea dell'orizzonte migliora questo ovvero migliora la possibilità di spostare il cielo in uno spazio 3D fondamentalmente più corretto e guarda anche il riflesso sull'acqua quanto sia più accurato con questa nuova versione miscela con l'immagine fa quello che ha sempre fatto ovvero sfuma questa linea di orizzonte oppure la rende in maniera più netta a seconda della preferenza che hai forse una cosa di questo genere andrà benissimo. Nota il dramma di questa traduzione Gian Mario aveva fatto un gran lavoro anche qui ma sono cambiati i nomi dei corsori e la fantasia dei traduttori Skylum si è di nuovo scatenata. È migliorata la gestione dei dettagli che comunque può essere sempre rifinita con la rifinitura maschera ma vedi che già con i parametri di default ha fatto un lavoro incredibilmente accurato e questa trovo che sia una delle differenze principali rispetto alle versioni precedenti. Nell'area illuminazione della scena non è stato aggiornato questo cursore che continua ad avere un nome assurdo ti faccio vedere che cosa fa in quest'altra foto cambiamo il cielo anche a questa mettiamo se vuoi un bel temporale assurdo così l'effetto si vede bene e prima di tutto ti voglio far notare il lavoro che fa qua intorno ai capelli e che volendo può essere ulteriormente rifinito con un minimo di rifinitura della maschera otteniamo veramente un risultato incredibile rispetto alla complessità di uno scontorno di questo tipo ma stavamo parlando di un'altra cosa ovvero questo che è il cursore aumentiamo al massimo la reilluminazione così l'effetto è più ovvio vedi che la reilluminazione fa un gran bel lavoro sullo sfondo ma non tocca le figure umane presenti nell'inquadratura e ecco qui puoi alterarle tramite questo cursore che il suo nome corretto sarebbe quello di modificare la reilluminazione delle persone ora in un'immagine come questa ovviamente il nostro cielo andrebbe leggermente sfocato per matchare la sfocatura dello sfondo ma torniamo all'immagine precedente perché voglio mostrarti l'ultima novità che riguarda il riflesso ed è questo puoi sfocare la superficie dell'acqua e questo è molto comodo se hai delle immagini in cui vuoi cambiare il cielo con lunghe esposizioni dove l'acqua assume l'aspetto setoso come sai ho realizzato un tutorial su questo argomento che ti linko nella descrizione e nella card sopra alla mia testa ora in questa foto non c'è nessun bisogno di fare questo ed è migliorato anche il riconoscimento degli oggetti nell'acqua vedi che dà molto meno fastidio qua dove ci sono i riflessi delle statue nonostante io abbia messo questo riflesso a un livello direi completamente dissennato noti anche un incremento nella reattività e nell'interattività con il software quasi tutto inizia a muoversi in tempo reale più o meno ti faccio anche notare che la reilluminazione ora agisce anche sul riflesso nell'acqua e questo è particolarmente vero se portiamo la saturazione di questa reilluminazione al massimo e vedi che adesso quando vado a variare la potenza della reilluminazione varia anche il riflesso e questo di nuovo è particolarmente visibile se io metto il riflesso a un livello esagerato vedi come in queste aree cambi drasticamente la reilluminazione ora abbiamo decisamente esagerato con praticamente ogni cursore ma vedi che se fai delle cose più o meno ragionevoli si riesce ad ottenere un risultato che nonostante questo cielo centri davvero pochissimo può funzionare sempre a proposito di cielo è migliorato il cielo evoluto ora c'è questo browser visuale per aggiungere i vari oggetti non una delle mie funzioni preferite ma con oggetti ragionevoli può avere la sua efficacia è chiaro che insomma se inizi ad aggiungere mongolfiere o space shuttle a immagini di questo tipo potrebbe funzionare non benissimo ma se fai cose ragionevoli va piuttosto bene e soprattutto hai la possibilità anche qui di aggiungere i tuoi oggetti personalizzati puoi utilizzare delle png trasparenti o delle immagini su sfondo nero quindi ciò che è nero verrà trasparente oppure puoi utilizzare delle png direttamente con la maschera e in questo senso il cielo evoluto può essere estremamente comodo per arricchire appunto nei paesaggi questo dettaglio sulla sostituzione del cielo vorrei fare una considerazione questa funzione è spinta tantissimo da Skylum e la considera il fiore all'occhiello di Luminar AI cosa che io personalmente condivido relativamente e questo perché per tante persone sostituire il cielo è un'attività esagerata all'interno di un'immagine che la rende falsa ora al di là di considerazioni di questo tipo che in una prova di un software a mio avviso c'entrano poco nel senso se ti piace la funzione la usi se non ti piace non la usi e insomma non ci sono grossissimi problemi Luminar eccelle in tanti altri aspetti primo dei quali a mio avviso è la gestione del colore quindi della color correction è estremamente estremamente comodo per quello che riguarda i ritratti se hai visto il mio video sul flash in esterni hai visto anche che ho sistemato in davvero 15 secondi le foto utilizzando i miei preset per ritratto ecco questa comodità credo che valga già da sola il costo di Luminar così come la possibilità di alterare la colorimetria in maniera estremamente semplice e con poche azioni tutte cose che potresti fare tranquillamente in photoshop impiegandoci forse 5-10 volte il tempo che ci impieghi in Luminar ma detto questo a proposito del cielo io trovo che non sia una funzione dedicata esclusivamente a chi fa paesaggi e anzi può essere molto più comoda per chi fa un altro genere fotografico e in particolare ti ho preparato questo esempio di foto di matrimonio la foto non è mia è un'immagine stock questo è l'originale che per quanto mi riguarda insomma una foto vicino alla condizione da buttare questa potrebbe essere una foto che se la dai a questa coppia magari possono essere soddisfatti certo l'ho realizzata a partire dal jpeg quindi ci sono una serie di imperfezioni non ultimo il fatto che i bianchi erano clippati ma quello che credo è che con un'immagine come questa forse riesci ad accontentarli con la foto originale difficilmente otterrai un applauso questo tipo di approccio io credo che possa essere molto molto comodo per chi professionalmente si trova a dover scattare nelle condizioni che trova ora in questo caso la foto è scattata anche con relativa imperizia ma nonostante questo riesci a salvarla a consegnare un buon prodotto mi dirai che sarebbe meglio se imparassi a scattare ma ti potrà senz'altro capitare di dover realizzare un matrimonio in condizioni che non sono quelle che la coppia aveva sperato dare in qualche modo la possibilità di ottenere comunque dei bei ricordi delle belle foto per quanto sicuramente alterate rispetto alla realtà che è stata vissuta io credo che sia un ottimo valore aggiunto e quando facevo matrimoni ti assicuro che mi sarebbe piaciuto avere un prodotto di questo genere ai tempi si scattava in pellicola e dunque le cose erano un pochino più complicate dovevi uscirne con le tue forze e nota a margine io ho aggiunto questa grana sul cielo per matchare il rumore presente nella foto ti faccio notare come Luminar al 100% produca un output fedele rispetto alla quantità di rumore aggiunta mentre invece quando guardi l'immagine intera si fa ingannare appunto dal ridimensionamento dunque fai attenzione quando aggiungi grana sistemi i dettagli o riduci il rumore di guardare l'immagine sempre al 100% come hai visto le novità non sono poi tantissime forse conveniva chiamarlo update 2.5 non update 3 perché magari per una maggior release qualcosina in più ci sarebbe andato in ogni caso si tratta di un aggiornamento compreso nel costo della licenza per Luminar AI dunque puoi scaricarlo e non dovrai pagare nulla in teoria verrai avvertito nel momento in cui l'aggiornamento dovesse essere disponibile in teoria è disponibile già da ieri se il tuo Luminar non si è aggiornato cliccando qua sul logo di Luminar vai su guida e controlla gli aggiornamenti e qui ti verrà proposto di aggiornarlo all'ultima versione se ancora non hai Luminar AI puoi averlo a prezzo scontato ti lascio tutte le istruzioni nella descrizione e nel primo commento di questo video tieni presente che il codice coupon videozappo puoi avere 10 euro di sconto Luminar AI va spesso in offerta e io segnalo questo genere di offerte sul mio canale Telegram per cui se non sei ancora iscritto ti suggerisco di farlo io ho anche un corso completo su Luminar AI che trovi nel videozappo fanclub linkato nella descrizione qui sotto non aggiornerò più i corsi su Udemy ma chi è iscritto ai miei corsi su Udemy può richiedere gratuitamente l'accesso al corso presente nel videozappo fanclub dunque non devi pagare assolutamente nulla se già hai acquistato il corso se invece il corso non vuoi acquistarlo cosa che ti suggerisco invece di fare puoi comunque guardare tutti gli altri miei video gratuiti su Luminar AI te rilinco qui accanto intanto grazie per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video